Dobbiamo andare avanti, credere su quello che hai messo in campo e lo porteremo avanti fino al 2030 per dimostrare che in pratica non è tanto la città della cultura in sé per sé, ma è quello che poi riusciamo a costruire o che riesci a costruire nel territorio. Marco non abbiamo il titolo ma abbiamo vinto perché il lavoro di squadra che abbiamo fatto noi non l'ha fatto nessuno, tanto meno pesano e tu lo sai. Altre logiche Marco, siamo i vincitori morali, lo so che spesso quando uno dice che siamo i vincitori morali è un palliativo, però in questo caso secondo me ci siamo. Andiamo avanti, ci vediamo comunque nei prossimi giorni in maniera che siamo insieme. Siamo tutti con te, un abbraccio. Un abbraccio a lei. Ciao Marco. Ciao Marco.